Le NAIAD chiuderanno? Allora, prima di rispondere alla sua domanda, un piccolo passo indietro. Noi le NAIAD le abbiamo trovate chiuse, le abbiamo trovate senza un gestore, chiuse, in abbandono e senza molte le autorizzazioni necessarie per esercitare. In questi quattro anni e mezzo abbiamo fatto qualsiasi tipo di sacrificio per sostenere sforzi economici, infrastrutturali, manutentivi ed energetici e per quattro anni e mezzo con Altenne Fortuna comunque le NAIAD sono state aperte. Certo non le faremo chiudere adesso. Le soluzioni, dunque, tra quella temporanea e imminente e quella che vedrà il nuovo gestore, si trovano. Certo è che la gara d'appalto spaventa un po' perché si tratta di investire 39 milioni di euro. In ogni caso l'allarmismo oltranza deve avere un limite, anche perché l'obiettivo della Regione è chiudere la questione entro settembre. Certo noi dobbiamo rispettare le leggi della Repubblica Italiana che ci impongono dei bandi che facciamo molto seri perché non vogliamo incorrere in qualche ulteriore gestione ballerina per assegnare un bene pubblico di questa importanza. Un primo bando non ha riscontrato l'interesse del mercato. Abbiamo allungato la possibilità di rispondere perché siamo fiduciosi che si possano trovare degli operatori a cui da prima assegnare temporaneamente la struttura al fine di non farla chiudere nel periodo di cessazione dell'attuale gestione verso la nuova gestione e poi, avendo assegnato 20 anni di gestione nel nuovo bando, trovare un imprenditore che sia in grado di fare un piano economico-finanziario che risolva i problemi strutturali delle NAIATI. Tra le società potrebbe esserci la stessa Petruziana di Teramo. Dopo la concessione con scadenza al 31 agosto, si potrebbe, perché no, pensare all'incarico temporaneo e diretto.